Chi è quella donna? Un anno giornalista. Voleva che le rilasciassi un'intervista. Siete. Bellissima. Madame. Non dovreste essere qui, lo sapete. Non sapete mentire. Lo volete qua? Andatevene, mi prego, finché siete in tempo. Presto i vostri superiori scopriranno che frequentate la regina delle Grandi Orisontali. Allora, per voi, addio carriera. Sono poveri. Non preoccupatevi di questo. Dico, che volete la vita di un uomo, in cambio di un pancio. Io, io sono vostro. Tutto vostro. Per sempre. Non preoccupatevi di questo. Ma non è un uomo, in cambio di un'altra persona. Io sono vostro. Io sono un uomo, in cambio di un uomo, in cambio di un uomo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.